Il nostro argomento quest'oggi è un episodio particolarmente drammatico della vicenda punteggiata da una serie di traumi della rivoluzione francese, in particolare il dramma dell'arresto dei deputati girondini in piena convenzione nazionale il 2 giugno del 1793. Questo episodio segna l'inizio del governo giacobino, la presa del potere potremmo dire da parte della fazione giacobina, e l'inizio anche del potere straordinario del Comitato di Salute Pubblica e dopo pochissimo tempo l'instaurazione del cosiddetto grande terrore. Questa vicenda è, potremmo dire, una rivoluzione dentro la rivoluzione intrapresa, avviatasi ben prima nel luglio del 1789. Come si arriva a questa resa dei conti? Ecco, dovremmo, per comprendere meglio la vicenda, porre sul terreno una serie di antefatti. A rigore il più remoto di essi potremmo dire la dichiarazione di guerra, cioè il fatto che nell'aprile del 1792, quindi un anno e qualcosa prima dell'episodio di cui ci stiamo per occupare, nell'aprile del 1792 la Francia dichiara guerra all'Austria e alla Prussia. Come si arriva a questa dichiarazione di guerra e come nasce soprattutto l'iniziativa di aprire le ostilità? Potremmo dire nell'agosto precedente, nell'agosto subito precedente, quindi arretriamo fino all'agosto del 91, un incontro tra rappresentanti delle potenze conservatrici, Austria, Prussia soprattutto, avvenuto nella località di Pilnitz, quindi un punto di incontro tra Austria e Prussia. L'incontro di Pilnitz aveva determinato una presa di posizione da parte di entrambi i governi, ma soprattutto di Leopoldo II, imperatore d'Austria, piuttosto minacciosa nei confronti della Francia. Perché? Perché il re di Francia, Luigi XVI, nella cui moglie è sorella dell'imperatore d'Austria, è stato arrestato mentre tenta di fuggire, dopo aver finto di assecondare il lavoro dell'Assemblea legislativa, addirittura ha approvato, dopo qualche resistenza, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e la bozza di Costituzione, la cosiddetta Costituzione del 91, che è una Costituzione sostanzialmente liberale e per nulla eversiva, diciamo così, nonostante questa simulazione di accettare lo statu quo, la nuova situazione rivoluzionaria, tenta di fuggire, ma viene bloccato a Varenne, la famosa fuga di Varenne e riportato a Parigi. Umiliato, svergognato, potremmo dire, il sovrano che scappa e che viene acciuffato come un ladro riportato nella capitale è un sovrano di fatto dimediato, un sovrano che ha perso gran parte della sua dignità. Per le altre teste coronate d'Europa, egli ha subito un sopruso e quindi i due sovrani a Pilniz minacciano la Francia in maniera, peraltro, abbastanza vaga. Non promettono al sovrano Luigi XVI di intervenire militarmente contro il paese che lo sta limitando nei suoi diritti, nelle sue prerogative, regge, però è indubbiamente un testo provocatorio, è un testo che può suscitare e suscita infatti una indignazione inerente alla necessità di reagire a questa interferenza grave di potenze straniere nella vicenda interna della Francia. Si profila a quel punto uno scontro tra le due principali forze politico-parlamentari che sono per l'appunto i girondini, i cosiddetti moderati, perlomeno sul piano della politica sociale, e i giacobini che sono minoritari dal punto di vista numerico anche dell'insediamento nel paese, hanno una notevole forza nella capitale, ma non altrettanto nei dipartimenti. La maturazione di questa decisione di guerra avviene abbastanza per gradi, potremmo ricordare un episodio molto significativo che sta a significare come i girondini siano protesi a innescare la guerra, convinti fra l'altro di poter bandire una sorta di crociata della libertà nei paesi europei che non hanno ancora apprezzato il sapore della rivoluzione, e i giacobini che sono tendenzialmente molto più prudenti verso l'idea di imbarcarsi in una guerra. L'episodio al quale mi riferisco, ben prima dell'aprile, siamo nel 2 di gennaio del 1792, nel club dei giacobini, Robespierre interviene con un discorso memorabile. Il discorso di Robespierre è un discorso di estrema concretezza politica, e direi anche di saggezza politica, che consiste nel dire che la guerra è uno sbaglio enorme, non solo in generale, perché è un far precipitare la situazione in modo drammatizzante e pericoloso, ma soprattutto per una contestazione che gli oppone alla mentalità girondina, alla crociata della libertà in casa altrui. Lui dice, a un certo punto di questo suo memorabile discorso, i popoli non amano i missionari armati che entrano nel loro paese e li accolgono come nemici, quindi non vi aspettate di fare questa marcia trionfale a danno dell'anzien regime con le armi in pugno. Nonostante questa presa di posizione molto fondata, nonostante che una parte dell'opinione pubblica, quella influenzata dai giacobini, sia ostile, il 20 di aprile del 1792, quindi quasi quattro mesi dopo quel discorso al quale ho fatto riferimento, la Francia dichiara guerra all'Austria e alla Prussia e intraprende un conflitto armato del quale paradossalmente il sovrano è tutto sommato soddisfatto. Perché? Perché è convinto che la guerra andrà male e che quindi la vittoria degli avversari, diciamo così, delle due grandi monarchie ostili alla rivoluzione francese, riporterà ordine nel paese. Questo egli pensa, ovviamente non lo dice. Ci sono poi altri elementi nello scenario, in quel momento delicato della dichiarazione di guerra, per esempio tutto il coté che fa capo alla Fayette, che è stato all'inizio un protagonista dell'89, che già aveva glorioso passato di aver dato una mano alla rivoluzione americana, ecco, anche la Fayette è convinto che la guerra sia conveniente perché potrebbe mettere nell'angolo le forze estremistiche, cioè i giacobini, e tutto sommato consolidare il coté conservatore moderato della rivoluzione, bloccarla, per così dire, in quello stadio. Quindi, come si vede, ci sono varie forze, fra loro diverse, i girondini per un verso, la Fayette e i suoi seguaci, il sovrano, che con motivi differenti appoggiano, sostengono la scelta bellica. Ma la situazione militare, per così dire, diventa sempre meno favorevole. Il tradimento al vertice degli organismi militari è oggetto di sospetto, di sospetto sempre più grave, per cui la posizione del sovrano comincia a traballare. Il sovrano non ama stare a Parigi, preferisce stare a Versailles, è costretto invece dalla pressione popolare a tornare a Parigi. Nel momento in cui la collusione del sovrano con le potenze nemiche emerge, viene ritenuta ormai cosa provata, si verifica un memorabile passo falso delle potenze avversarie, il famoso proclama del principe di Brunswick, personaggio incauto che minaccia direttamente l'Assemblea legislativa e il governo legittimo della Francia di intervento in Francia per ripristinare i diritti del re. A quel punto l'imprevisto è una insurrezione popolare, la famosa gloriosa giornata del 10 agosto del 92, il proclama di Brunswick è del 25 luglio del 92, l'assalto alle Tuileries, che è la sede a Parigi del sovrano, dove attualmente si trova il Louvre, lì che il sovrano risiede, con il grande giardino, il carrefour di Ucarusel, eccetera, e l'aggressione popolare irresistibile approda all'arresto del re. Quindi il re ha compiuto il passo falso di flertare col nemico, il nemico ha fatto il passo falso di proclamare, addirittura di voler riportare il sovrano nei suoi poteri usando la forza. anche al governo girondino, anche alla legislativa, la situazione sfugge di mano e chi infrange questo equilibrio instabile, arresta il sovrano, lo trasporta dentro la prigione del Tempio e una sommossa popolare. Chi è il soggetto della sommossa del 10 agosto? Il 10 agosto è nella storia della rivoluzione francese una data memorabile, in fondo è la fine della monarchia. Sono le sezioni popolari. Questo elemento, potremmo dire meno visibile, soprattutto sul piano dell'informazione superficiale, questo elemento è decisivo perché le sezioni, che sono ben 48 nella capitale, nella città di Parigi, raccolgono quartiere per quartiere i cittadini politicamente attivi. Potremmo sottolineare a questo punto la distinzione tra gli elettori, i quali, seguendo le regole delle normative elettorali, mandano al Parlamento una rappresentanza, nella fattispecie si trattava appunto dell'Assemblea legislativa, e poi i cittadini politicamente più sensibili, più attivi, più interventisti, i quali si organizzano in sezioni, sezioni appunto che prendono nomi anche molto fantasiosi, spesso per esempio dagli eroi della Repubblica Romana, brutto, eccetera, e incombono sul potere costituito, sull'Assemblea elettiva. Le sezioni, le sezioni non sono tutte uguali naturalmente, ci sono orientamenti diversi, quella per esempio della cité, la cité è proprio il cuore della capitale, l'isola di San Luigi, è la più accesa, viene chiamata la sezione della cité, ovvero l'arcivescovado, ed è influenzata dai leader più radicali, innanzitutto Marat, che fa un giornale, il giornale si chiama La Medio Peuple, l'amico del popolo, e un altro esponente meno noto di Marat, e cioè Hebert, i quali coniugano sempre alle esigenze di una maggiore libertà politica, contestazione dell'istituto monarchico, eccetera, delle forti istanze di carattere sociale. Questa è la sezione più, come dire, avanzata dal punto di vista della prospettiva politico-sociale. Poi ce ne sono altre più moderate. Sostanzialmente il coordinamento di tutte queste sezioni, seppur faticosamente realizzato, è nelle mani del municipio, chiamato la commune, la comune. Il termine la commune è diventato celebre per fatti di molti anni dopo, 1871, ma commune vuol dire appunto la municipalità di Parigi, che risiede nell'Hôtel de Ville, che diventa un altro centro, per così dire, di contropotere rispetto all'assemblea legislativa, che è stata eletta, nei limiti dei sanciti dalle norme elettorali, dagli elettori di tutta la Francia, dei vari dipartimenti. seczioni, Vescovado e commune sono, con i loro esponenti ovviamente nel campo della comunicazione, come si usa dire adesso, cioè i giornali che sono numerosissimi, molto combattivi, sono un potere popolare che è direttamente connesso alla partecipazione popolare. si innesca su questo punto un elemento molto importante e cioè la distinzione tra il comune cittadino che esercita il suo diritto di voto se ha voglia di farlo e il cittadino attivo, il cittadino che vigila perché le conquiste della rivoluzione non solo non si perdano ma si approfondiscano. Questa dualità, diciamo così, è alla base del primo tornante importante del racconto che stiamo cercando di mettere in essere e cioè appunto la giornata del 10 agosto. La giornata del 10 agosto il re ha cercato il scampo nascondendosi nella sede dell'Assemblea Legislativa ma invece coloro che lo hanno arrestato non lo lasciano libero e lo portano, come ho detto prima, nella prigione del Tempio e lì resterà in realtà fino al processo sommario davanti alla Convenzione nazionale e poi all'esecuzione capitale il 21 gennaio del 1793. Ma tra la giornata del 10 agosto e il 21 gennaio dell'anno seguente ci sono eventi drammatici e ovviamente l'arresto del re determina una reazione fortissima da parte delle truppe austro-prussiane, la situazione militare precipita per quel che riguarda la Francia e uno sforzo veramente notevole che comporta anche la trasformazione ormai attuata dell'esercito da esercito di mestiere a esercito popolare questa trasformazione porta ad un primo e insperato successo militare per l'appunto il 20 di settembre del 92 quindi un mese e qualcosa dopo l'arresto del re nella celebre, diventata celebre località di frontiera verso la Renania la giornata di Valmy la giornata di Valmy che è stata per così dire eternata non soltanto nel mito repubblicano ma anche nella tradizione democratica penso per esempio ai componimenti poetici di un letterato poeta italiano notevole purtroppo molto dimenticato come Carducci il cui saigrà quel ciclo di sonetti che riguardano la vicenda della rivoluzione francese si conclude e culmina nell'ultimo di questi sonetti per l'appunto sulla battaglia di Valmy una poesia politica poesia civile molto efficace nella quale egli che ha come sottotesto potremmo dire la storia dell'evoluzione francese di Jules Michelet che è un classico della storiografia ottocentesca ricorda proprio al termine una scena storicamente avvenuta e cioè il giovanissimo Goethe che per curiosità sua si era unito al seguito delle truppe prussiane e che si è trovato presente ad assistere alla battaglia di Valmy nel suo diario ha nota che quel giorno al termine di questa memorabile vicenda non era una grande battaglia in realtà però era uno scacco per le truppe austro-prussiane egli al termine di quella giornata ha detto ai suoi amici avete assistito ad un evento da cui incomincia la nuova storia ed è quello che Carducci mette in versi oggi da questo giorno incomincia la novella storia enfasi su quella battaglia in parte giustificata dal fatto che è la prima volta che le sorti militari si capovolgono e anche enfasi dovuta al fatto che in quel medesimo giorno 20 di settembre del 1792 entra in carica la nuova assemblea elettiva della Francia ormai repubblicana di fatto dopo l'arresto del re cioè la convenzione la convenzione nazionale la convenzione è stata eletta attraverso una procedura elettorale che ha coinvolto ovviamente tutti i dipartimenti meno i dipartimenti nei quali non è affatto presente diciamo l'autorità dello Stato e cioè la Vandea quella area nord occidentale della Francia monarchica e cattolicissima che dall'arresto del re in avanti è in rivolta è in contrapposizione frontale rispetto a quello che succede a Parigi nella capitale soprattutto per non di meno la convenzione rappresenta grosso modo l'intero paese i vari dipartimenti hanno mandato i loro rappresentanti la maggioranza parlamentare è costituita dai girondini che sono i più preparati i più colti i più efficaci grandi avvocati grandi letterati o anche personaggi di spicco notevolissimo come il filosofo Condorcet per esempio potremmo dire hanno un loro preciso programma di governo secondo loro la rivoluzione è finita lì sono convinti della proclamazione della Repubblica quindi sono schiettamente repubblicani e la proclamazione della Repubblica avviene per l'appunto il giorno stesso in cui il 20 appunto di settembre si insedia la convenzione e le armi francesi sconfiggono i coalizzati però non si deve andare oltre cioè finisce lì con un'accentuazione di un tema molto importante per loro e cioè il fatto che i limiti per così dire economici la salvaguardia della proprietà privata dopo peraltro le confische ai danni dei nobili e del clero che sono una forma massiccia di violazione della proprietà privata ma la proprietà privata borghese che ormai è al potere non si tocca e quindi la pressione popolare che le sezioni incarnano e in particolare le sezioni estremistiche quella di cui abbiamo parlato prima del Vescovato ma anche altre e la commune che è dominata da uomini vicini a Marat e Eber sono il nemico diventano il nemico perché vogliono andare oltre quindi appena costituitasi potremmo dire la neonata Repubblica Francese nel segno della maggioranza parlamentare girondina si apre un nuovo conflitto un conflitto più profondo potremmo dire che va alla sostanza delle cose come si profila come si presenta all'occhio dell'osservatore questo nuovo Parlamento la sua sede non è ancora quella in cui si svolgerà la vicenda di cui stiamo per parlare loro stanno nel maneggio il maneggio che è un ampio spazio e la montagna i montagnar cioè i giacobini sono una forte minoranza le personalità di maggiore spicco sono meno rilevanti hanno meno lustro talvolta potremmo dire anche meno preparazione dei girondini la figura di Robespierre che poi diventerà il loro leader non si è ancora imposta d'altra parte egli è un avvocato nato ad Arras modesto avvocato che si è nutrito del pensiero di Jacques Rousseau a suo modo anche Marat ne fa parte ma Marat è un uomo che occhieggia verso le sezioni verso la commune quindi è molto più avanzato dal punto di vista delle aspirazioni sul piano sociale ma Marat che ha fatto qualche tentativo poetico quando era giovane è un grande agitatore non più di questo ha un grande seguito questo senza dubbio nelle sezioni parigine poi certo c'è la palude di mezzo la plan la palude i numeri non sono mai chiarissimi non c'erano i gruppi parlamentari codificati all'epoca però è quella zona grigia che si allea naturalmente con i conservatori ma non prende iniziative quindi fa maggioranza insieme con i girondini e costituisce l'handicap principale perché la montagna cioè i Giacobini possano sovvertire questi equilibri ammesso che lo vogliano ammesso che abbiano poi un programma chiaro per il quale battersi con questo elemento noi ci avviciniamo ad un ulteriore punto che merita attenzione e cioè il conflitto sociale il conflitto sociale in atto che consiste in sostanza nella sensibilità nuova accesa vigile di masse abbastanza numerose soprattutto nei grandi centri urbani e soprattutto intorno a Parigi e dentro la città per le condizioni sempre più precarie dal punto di vista economico perché la situazione di questo grande paese di 25 milioni di abitanti come la Francia alla fine del Settecento ha perso le colonie quasi tutte in sostanza le Antille l'economia va a rotoli la carta moneta gli assegnati cosiddetti sostituiscono la moneta tradizionale circolante i prezzi l'inflazione si scatena i prezzi anche dei generi alimentari di base il pane salgono alle stelle quindi c'è un disagio sociale vero e c'è anche un nucleo potremmo dire di ceto artigiano e operaio che ha in nuce una sua propria visione sia pure schematica di rivoluzione sociale di cambiamento degli equilibri sociali e per questa parte certamente minoritaria dal punto di vista numerico del paese le sezioni la commune sono il punto di riferimento la convenzione lo è nei limiti in cui è finalmente repubblicana cioè la rottura con la monarchia fa della convenzione un interlocutore non solo bene accetto ma importante allora si diceva chi è schierato appunto per la repubblica contro il re traditore è un buon patriota quindi il termine più frequente per definire in modo positivo un politico un atteggiamento politico è patriota patriottismo che è un po' generica come definizione nella quale si possono ritrovare tanti che poi la pensano diversamente su questioni fondamentali quindi dietro la vicenda per così dire del consolidamento istituzionale di cui il processo al re diventa subito il primo scoglio c'è poi l'altro problema di quali equilibri sociali definire nel momento in cui nasce la repubblica è necessaria una nuova bozza di costituzione non più la costituzione del 91 quella che Luigi XVI aveva finto di apprezzare e che però comprendeva contemplava l'istituto monarchico ora è necessaria un'altra costituzione una costituzione repubblicana che bisogna scrivere bisogna stabilire i principi una dichiarazione di diritti specifica di questa nuova costituzione e quindi scrivendo questa nuova costituzione si dovrà chiarire che idea dei rapporti economici e sociali ecco perché il tema dei conflitti di classe diventa un tema bruciante per la convenzione appena entrata in carica il tema più immediato però e che un po' mette alla prova tutti è quello di cosa fare del re perché il re è stato arrestato e la bandea è in sorta perché monarchica seriamente si propongono anche se non hanno le forze per farlo ma già dall'estero gli arrivano le armi si propone di liberare il re quindi c'è già una guerra civile sostanzialmente in atto sia pure per ora in un'area piuttosto marginale limitata il re prigioniero e il problema è cosa fare di lui un processo incriminarlo per quali reati dove svolgere questo processo un tribunale speciale la convenzione medesima a questo punto accade per esempio che alcuni deputati rappresentanti della bandea sollevano dinanzi alla convenzione certo la loro posizione è minoritaria il problema che il re non è processabile perché la sua persona è inviolabile ma la persona è stata già violata nel momento in cui è stato arrestato e messo dentro la prigione del tempio lui e la sua famiglia la moglie il figlio quindi la posizione è inviolabile quindi non c'è luogo a un processo è una posizione ovviamente non difendibile poi c'è una posizione invece che è caratterizzata dalla maggioranza giacobina che favorisce tale posizione e cioè quali sono i reati da imputargli egli è un cittadino allora entra in scena un fenomeno che molto spesso si verifica in situazioni di passaggio di potere così violento dentro le tuilerie che è la reggia ormai non più tale e dal 10 maggio diventerà la sede della convenzione è stato rintracciato una sorta di cassaforte un armadio di ferro come venne chiamato nel quale c'è la corrispondenza segreta del sovrano e le prove provate della sua intesa col nemico fra l'altro sul trono d'Austria a Leopoldo II è subentrato Francesco II che è molto bellicista è convinto che la Francia vada messa in riga anche se il suo problema poi è di trovare un accomodamento con Prussia e Russia per la spartizione della Polonia che è un gran problema che divide queste tre grandi potenze per la Francia in certo senso per fortuna perché questo rende meno potente la coalizione nemica questi documenti che vengono fuori dal cosiddetto armadio di ferro comportano che l'accusa è alto tradimento Girondini preferiscono invece porre la questione con i loro relatori al Parlamento su un altro piano cioè comportamenti abnormi sul piano economico modi diciamo per lo meno disinvolti di gestire il denaro pubblico cioè accuse magari di una certa forza ma che non sono quelle dell'altro tradimento e quindi chiedono un processo regolare ad un cittadino ormai non più sovrano la posizione dei Giacobini è illustrata molto bene con grande efficacia da un leader esordiente poco più che 25enne Saint-Just che è anche egli parlamentare è stato eletto alla convenzione nel gruppo della montagna dei Giacobini è la prima volta che lui parla fra l'altro al Parlamento alla convenzione e sviluppa un ragionamento a suo modo ineccepibile cioè il re non è un cittadino quindi non può essere processato in modo regolare come qualunque cittadino sia in corso in reati è il nemico perché si è alleato col nemico e la posizione questa volta propugnata dalla montagna da Giacobini illustrata con efficacia da Saint-Just e da altri oratori naturalmente prevale sia pure con qualche difficoltà la convenzione nazionale vota a scrutinio palese e a maggioranza decide per la condanna a morte per cui i parlamentari convenzionali come furono chiamati che votarono a favore della condanna a morte sono definiti sempre chiamati così dalla stampa ostile in tutto il lungo periodo della restaurazione nell'ottocento ma ancora nel novecento i regicidi quindi viene capovolta la posizione i criminali sono loro e il re è la vittima comunque la prevalenza dei voti per la condanna a morte porta al 21 gennaio del 93 alla esecuzione capitale la ghigliottina del sovrano il quale come dicono le cronache con grande dignità affrontò la morte in certo senso riscattando una mediocrità e viltà che aveva caratterizzato gran parte del suo regno peraltro rovinoso dal punto di vista non soltanto della monarchia francese ma della Francia come tale ovviamente questo è un punto di non ritorno si è arrivati lì con una lacerazione fortissima è una vittoria senza dubbio della montagna dei Giacobini ma il corrispettivo immediato come è facile capire è catastrofico sul piano politico-militare perché la rivolta vandeana si estende non è più soltanto una guerriglia è qualcosa di molto peggio e attenzione le potenze soprattutto Prussia e Austria riescono a trovare un accomodamento sulla faccenda della spartizione della Polonia e quindi si propongono ora di fare la guerra sul serio magari riscattando la sconfitta di Valmy non gli va tanto bene perché poi poco dopo c'è una vittoria questa volta molto seria sul piano militare a Gemap Gemap è una località sul confine del Belgio e a seguito di quella vittoria le truppe rivoluzionari repubblicane francesi occupano il Belgio dove peraltro c'era già stata una rivoluzione di tipo giacobino nella parte francofona del Belgio il Brabante il che però allarma una potenza che finora è stata ai margini ha guardato l'Europa scannarsi ma è rimasta ferma anche perché aveva i suoi problemi col distacco delle colonie americane cioè l'Inghilterra il regno d'Inghilterra non può sopportare che la grande potenza perché tutto sommato è una grande potenza la Francia nonostante i traumi interni fortissimi continentale abbia sotto il suo controllo il Belgio che veniva definito allora e dopo una pistola puntata contro l'Inghilterra l'Inghilterra ha avuto sempre questa politica rispetto al continente europeo di evitare che sul continente europeo si determini una egemonia tale da creare una forza tale da mettere in pericolo il predominio inglese per esempio sul resto del mondo nel mondo coloniale fino a che questo non è avvenuto l'Inghilterra è rimasta neutrale non ha secondato le grandi potenze reazionarie Austria e Prussia addirittura nell'opinione pubblica inglese fino al cattura del re e alla sua uccisione c'era anche una certa simpatia per l'evoluzione politica in Francia ma dopo il regicidio come fu chiamato per la gran parte dell'opinione inglese anche liberale la Francia diventa il nemico un luogo di orrori di crimini di violenze e quindi la coalizione formalmente si forma si costituisce Austria Prussia Russia e Inghilterra la situazione militare a quel punto diventa allarmante per la Repubblica Francese completamente isolata in questa nello scacchiere internazionale sia pure con il suo attivo dei successi militari non da poco ma fino a che punto durevoli e fino a che punto i capi militari a cominciare dal generale Dumouriez che è il conquistatore del Belgio rimarranno fedeli al governo repubblicano nonostante la svolta radicale che si è determinata dopo l'uccisione del re questo è il punto mentre non dimentichiamo la situazione economico sociale interna continua ad aggravarsi l'Inghilterra combatte la sua guerra per ora non mandando eserciti sul continente ma mandando aiuti militari ai vandeani geograficamente è molto facile la Vandea ha questo vantaggio di poter comunicare con l'Inghilterra in maniera abbastanza indisturbata la Francia quindi mentre deve combattere contro la coalizione deve poi combattere la guerra interna contro la Vandea che è una vera e propria guerra ormai e al tempo stesso introduce un elemento micidiale e cioè fa saltare gli equilibri finanziari versando sul mercato francese i cosiddetti falsi assegnati cioè la carta moneta addirittura falsa per accrescere a dismisura l'inflazione inflazione che porta il prezzo del pane alle stelle quindi la situazione economica diventa gravissima e questo dà alle sezioni e alla commune sempre più slancio per contrapporsi e stimolare la convenzione la convenzione a maggioranza girondina prende un'iniziativa suicida potremmo dire almeno in prospettiva e cioè creare una commissione di 12 persone la cosiddetta commissione dei 12 i quali debbono indagare sui comportamenti della commune e delle sezioni e eventualmente reprimerli quindi guerra aperta al contropotere popolare e la vera e propria dichiarazione di guerra al contropotere popolare da parte del governo girondino dico governo perché ovviamente ci sono ministri e sono quasi tutti dell'area girondina e questo diventa la miccia che accende il conflitto un conflitto di cui ora vedremo come si è concretamente sviluppato in quei giorni ci avviciniamo a grandi passi alla data che ho detto prima questo 2 giugno del 93 il 10 maggio come abbiamo già ricordato la convenzione si sposta dal maneggio alle tuilerie questi spostamenti non sono casuali in sostanza la convenzione dominata dalle forze moderate non gradisce di essere sotto la diretta pressione delle sezioni la diretta pressione popolare quindi cerca dei luoghi appartati meno diciamo raggiungibili più difendibili rispetto all'attivismo frenetico e incombente invadente dei sanculotti i sanculotti la sanculotterie proletariato parigino sono l'anima delle sezioni sono quelli che vanno tutti i giorni in sezione parlano di politica agitano criticano i parlamentari che non gli piacciono insomma una pressione costante perciò si spostano alle tuilerie convinti che questo li metta un tantino a riparo siamo al 10 di maggio il progetto di costituzione repubblicana che intanto dovrebbe essere portato all'attenzione del Parlamento della Convenzione nazionale stenta a decollare perché? perché ci sono dissensi sostanziali Robespierre che sta diventando un parlamentare di maggiore spicco ormai più noto più influente eccetera ha elaborato alla fine di aprile un progetto di dichiarazione dei diritti dell'uomo da anteporre al testo costituzionale gli stesso poi dovrà quando i giacobini hanno vinto la partita elaborare un intero testo costituzionale ma questa dichiarazione dei diritti per esempio pone la questione della non intangibilità della proprietà quando contrasta con l'utilità sociale principio che poi lentamente entrerà in tante costituzioni soprattutto potremmo dire nel secolo ventesimo ma insomma le premesse sono nella cosiddetta costituzione di Robespierre che non entrò mai di fatto in vigore però rimase un punto fermo nella storia costituzionale e quel progetto non piace per nulla ai girondini quando si stanno per saldare da una parte le sezioni e la commune dall'altra il gruppo parlamentare giacobino l'allarme esplode da parte della maggioranza girondina e l'operazione commissione dei dodici è l'antefatto l'anticamera potremmo dire di una operazione mirante addirittura a decapitare il potere popolare o contro potere popolare rappresentato essenzialmente dalla municipalità che sta all'hotel de ville l'hotel de ville questo edificio straordinario non tanto lontano dal punto di vista distanza chilometrica dalle tuilerie quindi abbiamo davvero una città con due governi addirittura o quasi il 31 di maggio quindi 20 giorni dopo il trasferimento alle tuilerie e non molto di più rispetto al progetto costituzionale presentato da Robespierre avviene un colpo di scena potremmo dire e cioè le sezioni nei giorni che precedono il 31 di maggio si sono riunite hanno elaborato hanno discusso hanno litigato alla fine è prevalza una posizione potremmo dire estrema radicale che unifica 34 delle 48 sezioni quindi la grande maggioranza potremmo dire delle sezioni le altre stanno un po' a guardare comunque non si oppongono una presa di posizione che culmina potremmo dire nella richiesta di abrogare la commissione il comitato dei 12 e deporre dal ruolo di parlamentari ben 22 deputati girondini e due ministri girondini quelli maggiormente accesi nel contrapporsi alla comune richiesta pesantissima richiesta di cui la montagna i giacobini non immediatamente se la sentono di farsi portatori questa richiesta molto perentoria viene presentata alla convenzione nella giornata del 31 maggio nella mattinata di quel giorno si era discusso del problema la commissione dei 12 ha senso dobbiamo abrogarla dobbiamo limitarne i poteri ma mentre si svolge questa discussione che non conclude non arriva a nessuna conclusione si presenta invece con un corteo di migliaia e migliaia di sanculotti armati capeggiati da un personaggio abbastanza folclorico ma insomma a suo modo molto efficace popolare Henriot il quale addirittura ha fatto suonare la campana a stormo cioè la campana che suona in tutta la città a martello come si dice per convocare il popolo in situazioni di pericolo estremo quindi la convenzione nazionale si trova in poche ore nella posizione di assediata da una massa popolare notevolissima che presenta delle istanze queste istanze merita che siano note insomma si possono elencare con estrema facilità e sono mettere sotto accusa i 22 girondini più esposti i 12 della commissione e i due ministri Lebrun e Clavier la leva di una armata rivoluzionaria cioè armare il popolo quindi creare un esercito popolare dando le armi in mano al popolo fissare il prezzo del pane a tre soldi la libra rendendo possibile questo fortissimo calmiere sul prezzo tassando pesantemente i ricchi congedare tutti i nobili che si trovano in cariche direttive all'interno dell'esercito perché sono rimasti lì per carriera epurazione di tutte le amministrazioni pubbliche arresto dei sospetti diritto di voto riservato provvisoriamente ai soli Sanculotti quest'ultima indicazione è molto sintomatica cioè addirittura come si capisce benissimo se si riflette su questa lista di richieste si capisce benissimo che il popolo attivo diciamo le seczioni appunto che sono i cittadini politicamente attivi e pronti a difendere le conquiste della rivoluzione la repubblica e i diritti dei poveri contro i ricchi si sentono minoranza numerica anche se a Parigi contano molto percepiscono di non essere necessariamente una maggioranza numerica in una futura gara di tipo elettorale parlamentare e quindi pongono un problema drammatico cioè limitare in modo capovolto il diritto di voto il diritto di voto tutte le costituzioni liberali non soltanto quelle francesi dopo la restaurazione ma anche nell'Inghilterra e negli altri paesi europei per tanta parte dell'ottocento il diritto elettorale era limitato sostanzialmente su base di censo su base censitaria o direttamente tale o attraverso la clausola dell'alfabetizzazione insomma è noto che il suffragio universale maschile quello femminile è addirittura una conquista del novecento arriva molto tardi perché l'impianto liberale è suffragio ristretto un pensatore liberale stato sempre molto venerato John Stuart Mill percepisce che il diritto di voto non può essere conculcato allora inventa il voto plurale questo avverrà negli anni sessanta dell'ottocento un progetto che ha avuto un qualche effetto il voto plurale vuol dire che a seconda del ceto sociale cui appartengo il mio voto vale molto vale meno o vale pochissimo tutti votiamo però alcuni votano molto di più lui dice proprietario vale cinque il suo dipendente vale uno perché il proprietario mette a rischio le sue ricchezze e quindi anche la prosperità del paese e dunque non può essere travolto da leggi incaute che intacchino i suoi diritti per tutelare tutti bisogna tutelare lui e quindi dargli una prevalenza è un ragionamento come un altro insomma con qualche punto debole forse su vari piani questa proposta è l'esatto contrario cioè il diritto di voto soltanto alla Sanchiulaterie cioè il proletariato parigino ha il diritto di voto gli analoghi in altri dipartimenti ugualmente per ora ricchi e nobili no è curioso questo elenco di richieste che vengono presentate armi in pugno potremmo dire alla convenzione è registrato con esattezza diciamo con precisione da vari storici che raccontano queste vicende diciamo subito quello più completo l'elenco più completo lo possiamo trovare in due opere novecentesche entrambe molto diverse l'una dall'altra un classico famosissimo la rivoluzione francese di Albert Mathies che è un libro di sintesi sono tre volumetti in Italia hanno circolato negli anni 30 tradotti così così poi rilanciati da Einaudi nel dopoguerra tre volumetti divulgativi ma molto ben fatti fra l'altro il frutto di una esperienza di ricerca storica molto approfondita Albert Mathies l'altro altrettanto completo elenco è in un libro molto bello molto diverso come impostazione molto intelligente di François Furet e Denis Richet che esce in Francia a metà degli anni 60 1965 poi in nuova edizione quasi otto anni dopo e tradotto in Italia dalla terza nel 74 ed è un libro che ha fatto epoca perché poi il ripensamento sulla storia della rivoluzione che è legato al nome di François Furet incomincia proprio con quel libro lì libro nel quale una parentesi che chiudo subito molto giustamente viene accentuato un concetto cioè tra Girondini e Giacobini la distanza non è grandissima sono due fazioni potremmo dire o due partiti due atteggiamenti borghesi entrambi ai Giacobini ai Montagnar quella lista di richieste non è molto gradita i seczionaires come si chiamano i sanculotti armati che stanno fuori dalla porta della convenzione e alcuni però sono già entrati dentro per portare questo elenco di richieste fanno loro paura certo non possono deluderli quindi in quella giornata del 31 maggio i parlamentari Giacobini si fanno portatori vibranti soltanto dei primi due punti della richiesta la commissione dei dodici e la deposizione dei parlamentari Girondini della questione sociale il calmiere sul prezzo del pane il diritto di voto addirittura sovvertito nel presunto equilibrio censitario non lo toccano neanche è curioso poi che in altre opere su questo argomento ce ne sono tantissime come si può immaginare io indico soltanto alcune ma famose non so Michelet un classico anche quello della storia della rivoluzione francese è stato tradotto in tante lingue un bravo Carducci si è formato diciamo così le sue conoscenze in merito proprio su quel grande libro scritto magnificamente grande retorica grande oratoria lì queste richieste non sono neanche elencate non ci sono e curiosamente questo stupisce in un'opera totalmente diversa anch'essa ottocentesca di un signore che si chiamava Tourneau Mortimer Tourneau royalista monarchico lo è stato fino alla fine della sua vita è stato parlamentare durante la terza repubblica quindi dopo la comune dopo la guerra franco-prussiana nel 1869 lui pubblica un libro in otto grossi volumi Histoire la terrore storia del terrore cioè di quell'anno e mezzo del governo giacobino libro molto utile per tante ragioni molto schierato in modo ostile sia contro i giacobini sia naturalmente contro Hebert Marat le seczioni ne parliamo però utile anche per una ragione che cioè è fondato su documenti che negli incendi di Parigi durante la comune del 1871 andarono distrutti quindi dopo quell'anno quei documenti non sono più stati utilizzabili perché non c'erano più e quindi quest'opera di Tourneau ha un vantaggio cioè di fondarsi con molta serietà professionale diciamo anche su documentazione ormai perduta bene lui fornisce l'elenco delle condizioni però omette quella del voto riservato ai Sanculotti probabilmente perché era elencata in una maniera diversa cioè non erano delle istanze immediate da attuare come il prezzo del pane o la cacciata dei parlamentari girondini era una prospettiva per quando si voterà bene cosa accade al termine della giornata del 31 maggio accade che il Parlamento sotto la pressione della piazza potremmo dire che è il Carrefour du Carousel quello che è davanti alle tuilerie approva la abrogazione della commissione dei dodici ma non tocca nemmeno la questione dei 22 deputati più due ministri da allontanare dal Parlamento e men che meno i provvedimenti di carattere sociale grande delusione delle seczioni le quali immediatamente si riuniscono mantenendo l'assedio del Parlamento i girondini sono convinti di avercela fatta cioè di avere ridotto il danno rinunciano alla commissione dei dodici e poi si dovrebbe andare avanti come sempre magari con un ordine del giorno scritto da uno di loro molto bravo un grande potremmo dire principe del foro che si chiamava Verniot che contiene un elogio del patriottismo delle seczioni così un contentino puramente verbale e la partita è chiusa e invece no non è chiusa per niente perché l'allarme che si diffonde immediatamente tra Vescovado sezioni commune con tensioni fortissime nei confronti di una seczione ritenuta filomonarchica che poi non era vero che aveva sede nel Palais Royal ecco dopo una notte agitatissima succede che l'assedio alla Convenzione si potenzia enormemente non più migliaia ma 80.000 proletari parigini con 16 cannoni capitanati dal bravo Henriot stringono da assedio la Convenzione e vogliono che la deposizione dei 22 Girondini avvenga immediatamente panico molti Girondini se ne sono andati sono nel intervallo diciamo tra il primo e il secondo assedio potremmo dire per cui quando la mattina all'alba del 2 giugno si riapre la questione in maniera drammatica e sotto l'urgenza potremmo dire di un assedio che sta per diventare un ricatto e loro sono non solo spiazzati spiazzati ma anche numericamente non molto presenti e al tempo stesso i Montagnar sono quasi allarmati del dover prendere una posizione risolutiva sotto la pressione della piazza e quindi hanno ben ragione Fiore e Richet nel dire che la vicinanza tra quei due gruppi per la loro origine sociale ha il suo peso rispetto alla contrapposizione radicale rispetto invece al proletariato parigino la situazione si svolge in maniera tragicomica potremmo dire brilla la figura di un personaggio che si chiamava Barère Barère un personaggio discutibilissimo viene dalla palude dalla plan quindi sta al centro degli schieramenti ha capito che Giacobini potrebbero prevalere si è riuscito a infilare nel primo comitato di salute pubblica quello egemonizzato da Danton il quale non fa parte della montagna Danton è soggetto a sé diciamo nel panorama di questi mesi Barère vedendo questa situazione critica lancia c'è una proposta che inizialmente sta per passare e cioè i 22 si autodepongano si dimettano rinuncino al seggio parlamentare per il bene della Repubblica alcuni di loro sono già pronti ad accettare altri dicono non se ne parla nemmeno la dignità del Parlamento è impasse paralisi completa in quel punto tralasciamo tutto l'andirivieni parlamentare che è tutto affidato a cronache a memorialistica ad atti parlamentari eccetera ma il clou diciamo della vicenda per sbloccare la quale Barère si mobilita è la seguente il presidente del Parlamento Mallarmé si è sentito male quindi è stato portato via è subentrato uno dei vice si chiamava Hérot de Seychelles il quale era un po' vicino alla montagna ma molto legato ai girondini Hérot de Seychelles viene richiesto da Barère e con lui tutti i parlamentari che siano disponibili a farlo viene richiesto di presentarsi agli assedianti cercando di rompere l'assedio Marat è contrario Robespierre dice che è una follia 30 parlamentari giacobini restano dentro la convenzione tutti gli altri vanno al seguito di Hérot de Seychelles e si assiste ad uno scontro verbale molto aspro tra il presidente facente funzione del Parlamento cioè Hérot de Seychelles e Hérot che nel frattempo potremmo dire ha acquisito un ruolo nazionale il suo grado militare è piuttosto alto ma ormai è il capo di una nuova rivoluzione la rivoluzione dei Sanculotti contro i girondini Hérot de Seychelles chiede di ritirare le armi di sciogliere l'assedio Hérot chiede l'immediata deposizione dei 22 i parlamentari costretti a constatare che l'assedio rimane saldissimo e che Hérot minaccia addirittura di fare accendere la miccia dei 16 cannoni contro la convenzione rientra totalmente privo di volontà politica e in questo vuoto uno degli esponenti giacobini più vicini Robespierre cioè Couton fa passare davanti ad un'assemblea decimata numericamente ridotta e frastornata la decisione che vengono deposti da parlamentari e messi agli arresti domiciliari i 22 parlamentari girondini i 12 componenti la commissione dei 12 e i due ministri si potrebbe dire a questo punto la rivoluzione della San Crue Lottorì parigina ha vinto e in certo senso è vero nel senso che la gironda a quel punto è dispersa i giacobini hanno dovuto schierarsi apertamente con le seczioni cioè hanno trascinati dal moto degli avvenimenti adottato un punto di vista che è quello del governo rivoluzionario la presa del potere che comporta l'unicità del potere e la cancellazione dei meccanismi parlamentari rappresentativi dopo pochi giorni la vendetta molti di questi deputati girondini scappano in Vandea uno di loro Barbarù è colui che ha indotto Carlotta Cordè a recarsi con pretesti ambigui a Parigi ad ammazzare Marat l'uccisione di Marat ad opera di Carlotta Cordè avviene lei è una fanatica monarchica eccetera ma Barbarù questo parlamentare che si è sottratto agli arresti scappando in Vandea è colui che potremmo dire le ha armato la mano le ha messo tra mano il pugnale con cui Marat viene ucciso casa sua con l'inganno con la finzione che gli deve essere sottoposta una mozione contro i traditori della Repubblica eccetera che è la prima avvisaglia di una guerra civile che divamperà nei mesi successivi si ribella il Midi i dipartimenti del Mezzogiorno della Francia che sono a prevalenza girondina o addirittura monarchica Tolone apre il porto alla flotta inglese la Francia nella tormenta dalla tormenta si risolleva militarmente con successi strepitosi dovuti alla creazione di un'armata popolare cioè quella richiesta armata il popolo che era una delle richieste del 31 maggio effettivamente per necessità viene attuata lo scenario successivo non tocca a noi ricordarlo in questa sede perché il nostro compito era di raccontare come i giacobini sono giunti al potere come è nato il potere rivoluzionario che durerà fino al 9 termidoro dell'anno secondo e cioè fino a luglio del 94 allorché una congiura parlamentare un colpo di Stato porterà Robespierre Couton Saint-Just Henriot medesimo sulla ghigliottina senza che le seczioni riescano ad impedire questo che è probabilmente la prova di quanto il collegamento tra elite giacobina e proletariato parigino fosse in ultima analisi precedente grazie a tutti